Grazie alla divina provvedenza di Sant'Antonio Campati, sono qui! Adesso finiamo i contatti con tutto il comitato e di voi, intanto vi prego, fateli sfogare poiché hanno fatto tanto viaggio, cantate, cantate, cantate! Questi ragazzi e ragazzi cantano veramente col cuore e voi siete qui ad applaudirli e ad ascoltare con quanto calore riescono veramente ad emettere delle canzoni, delle voci così belle e sono il ricordo dei tempi che voi avete trascorso nella nostra Sicilia. Ecco ancora voi il gruppo vostro, visito la Cina Amara! Grazie a tutti! 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 Il nostro sindaco Totò Brucconeri Il sindaco Totò Brucconeri tra qualche istante darà il saluto della cittadinanza di Castro Filippo a tutta la popolazione dei siciliani di America Forza a tutti ragazzi Signore, è in questo momento di allegria, è un momento unico per tutta la festa di Sant'Antonio Bene, applaudiamo con un applauso due grandi personaggi Il presidente del proprio Sant'Antonio a base, Vincenzo Arquista E niente poco di meno che, diceva Riva una volta, Mario Riva Niente poco di meno che, ad accompagnare questo gruppo È il primo cittadino di Castro Filippo Il sindaco Salvatore Brucconeri Grazie a tutti i cittadini di Castro Filippo Da parte nostra e da parte del gruppo culturistico e degli organizzatori tutti Che veramente, con grande coraggio, hanno affondato questo problema così Grazie a tutti 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 Chi sono quelli che hanno cantato? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti